Premio 120x120 Silver, categoria 1,25 m, Francesco Correddo che è qui vicino a noi. Tu sei abituato a gareggiare e vincere anche in Gran Premio, però questa era una gara impegnativa. Esatto, era una gara molto impegnativa perché anche se non c'erano le altezze di un Gran Premio, che possono essere 1,45 m, anche se era una gara di 1,25 m, la difficoltà del percorso era elevata e dentro questo campo diventa tutto più difficile, per noi che non siamo comunque abituati ad un panorama così elevato. Olimpia Rivalitara, una cavalla sarda. Sì, è una cavalla sarda, nata nel nostro allevamento giù a Villanova e appunto è stata domata da mio padre e ha perseguito tutta la stagione dei cavalli giovani sempre positivamente ed è passata sotto la mia sella già da due anni ed è una cavalla molto rispettosa ed è vincente nelle medie categorie. Abbiamo visto la seconda match, tu hai provato a vincere, hai girato stretto, quindi la volevi questa vittoria? Sì, ci tenevo molto a questa vittoria comunque a Verona e poi a questo anniversario dei 120 anni e mi ha dato una grande mano la mia cavallina e ce l'abbiamo fatta. Francesco Correddo.